GURULANDIA! GURULANDIA! GURULANDIA, ovviamente! GURULANDIA! Dove l'avete preso questo? Ma non me ne frega niente. GURULANDIA! Ascolta, GURULANDIA! Mi hai capito bene? Signore e signori, benvenuti alla nuova puntata di GURULANDIA! Oggi con noi abbiamo, ladies and gentlemen, Dario Moccia. Possiamo dire, il primo ospite di sinistra di GURULANDIA. Sì, è vero, è vero! E vai, finalmente! Così iniziamo a scremare un po' di pubblico, no? Perché tutto il pubblico destrozio del GURULANDIA per Fertri, Vanna Marchi sta gentaccia, via! Se ne va! Oppure commenta incazzata, comunista! C'è stato un dibattito a riguardo, tanto c'è tipo, ma GURULANDIA è il podcast più di destra di Italia! Però no, c'è stato anche Marra, che è di sinistra ma non lo sa. Sì, è di sinistra ma non lo sa, Davide Marra. Che saluto e che vi voglio veramente tanto bene. Ciao, ciao, Davide. Allora, Dario, come stai? Bene. Ti piace questo bellissimo? È bello, è molto toscano. Ma a parte noi siamo vicini, quanto ci hai messo arrivare? 40 minuti. Esatto, quindi siamo relativamente vicini. Si può dire dove siamo? Sì, dove siamo? A Pescia. A Pescia, nella città di Pinocchio. La città dei fiori anche. È vero, bravo. È vero, è vero. C'è la serra, il coso lì, insomma, il mercato serra. Non so cosa sia di precedenza. Che io tutte le volte che ci passo immaginavo tipo, ah, sai che bel rave viene qui dentro. È un posto del rave, sì, sì. Però ecco, già su di sinistra, poi se parli anche di rave il pubblico si leva da oglioni per davvero. La visualizzazione ce l'avevo già data, un minuto è passato. Mi aggancio a Pescia per partire subito col primo argomento. Siamo molto vicini a Lucca, ok? Ah, sì. E tra qualche giorno ci sarà il Lucca Comics. Sì. Vorrei parlare un attimo di questo grande evento perché so che te sei appassionato di manga, fumetti, carte, eccetera, eccetera. Intanto andrai a Lucca Comics, ci sei sempre andato tutti gli anni. Sì, è dal 2006 o 5 che ci vado, forse 2006. Un altro evento della Madonna. Se ne parlava prima. Ma quante persone ci saranno? Senti, ad ora guardavo, prima della puntata, siamo a quasi 270.000 biglietti venduti per i primi 5 giorni, che sono 5 giorni di evento. 80.000 persone al giorno, massima capienza. Allora, io voglio fare una premessa. Sono totalmente lontano da questo mondo, cioè è una cosa che a me non mi ha mai appassionato tanto. A te invece, come è nata questa passione? Raccontaci un po'. Come tutti, penso. La amizia mi comprava Topolino e poi da Topolino è stato un effetto domino continuo, fino ai grandi autori americani, francesi, italiani, giapponesi. E niente, mi sono appassionato perché mi piaceva come medium proprio il linguaggio del fumetto, cioè raccontare delle storie attraverso una sorta di storyboard, perché qui dobbiamo parlare anche a un pubblico di vecchi, a uno storyboard messo però e impostato diversamente dalla solita gabbia bonelli a cui gli anziani sono abituati. Se te compri tex in edicola è uguale a cent'anni fa. Ci sono delle piccolissime differenze, però bene o male la gabbia è sempre quella. A me piaceva il fatto di rompere la gabbia e di avere una visione autoriale della storia a seconda dell'autore che la trattava, proprio come un regista, quindi te hai la gabbia completamente esplosa nel caso di comics americano, hai una tavola più posata, ora sto facendo, sto ragionando per estremi chiaramente, poi ci sono tutti i casi limite, però una gabbia un pochino più, è un tratto anche più modulato col fumetto francese, il giapponese anarchia totale, insomma c'è un po' di tutto, però ripeto, sto ragionando per esempi demenziali per far capire la cosa a tutti, comunque è proprio come la visione di un regista, uno mette giù una storia con la sua regia, il suo tratto, perché poi è bello anche quello, vedere il tratto fatto a capello, un po' tratteggiato, un pochino più pulito, la linea chiara francese, insomma ognuno c'è il suo tratto, è bello anche riconoscerlo, questo è un manara, questo è GP, bellissimo. Fumetto preferito? Ce ne sono tanti, è come chiedermi il film preferito, che ne so io, l'opera d'arte preferita, è difficile, ti posso dire degli autori che sicuramente sono dei punti di riferimento, io amo Toriyama, amo Eshiroda per quanto riguarda il fumetto super popolare, Dragon Ball e One Piece, però mi piace GP come italiano, per me è l'autore completo migliore che abbiamo in Italia e anche qualcosina in più dell'Italia e francesi ce ne è infiniti da quelli più caricaturali, tipo Franken per me è il genio assoluto francese del fumetto caricaturale e poi il giapponese, c'è Urasawa che è il mio maestro assoluto, ma ce ne è mille, non lo so, sono impossibili, Taniguchi, Niei, c'è veramente un botto di autori. Io non ne conosco uno, lo sai, perché ha una passione, cioè tipo mi dici Dragon Ball, questo è così, Dragon Ball è nazional popolare, ma Toriyama era un genio, Dragon Ball è diventato nazional popolare proprio perché Toriyama era un autore nazional popolare a livello di stile, di regia, di disegno, era perfetto e non invecchia di un giorno, se te leggi Dragon Ball, leggi, leggi, attenzione, Dragon Ball oggi, anche la prima saga degli anni 80 nel 2023 è bellissima, scoppia, è rigoyosissima, è una cosa molto rara perché insomma il peso del tempo nelle opere è facile scorgerlo, è facile beccarlo perché certe opere invecchiano peggio di altre. Ovviamente immagino che fai anche collezionismo su tutte queste saghe. Fumetti no, ma perché? Ah fumetti no? Fumetti non ha senso collezionare a meno che tu non vada a prendere le prime edizioni, tipo il primo Tex, il primo Diabolic, ma a me quella roba lì non è mai piaciuta. Collezione dei fumetti gradati che sono, sono allora praticamente dei fumetti, però poi che mi ha detto lui no, bisogna parlare a un pubblico generalista, allora io mettere dentro una capsula e danno voto come a scuola. Bravissimo, ottimo, ora ci sono i numeri, ecco lì danno i numeri. Scusa, ho le bracciona, sono molto altissimi, potrebbe essere il primo ospite più alto di me, è vero, è vero, è vero, è un po' 46 puntate tipo. Ah sì davvero? Non abbiamo mai trovato un ospite più alto. Comunque te prendi un albo americano, ora fanno anche albi di altre nazionalità diciamo così, e lo buttano dentro a un guscio di plexiglass, ci danno un voto, a seconda delle condizioni, valutano il colore delle pagine, se sono ingiallite, se sono bianche, oppure strappi robe, e poi danno un voto, e ovviamente più aumenta il voto più valore hanno nel mercato collezionistico, e poi però c'è anche una componente divulgativa, cioè ti scrivono il numero, l'anno, il copertinista, chi ha fatto le matite, chi ha fatto l'inchiostro, e poi se dentro al numero succede qualcosa di particolare. Quindi la prima apparizione di Mysterio, la prima apparizione di Goblin, e le prime apparizioni o gli eventi della continuity di quel supereroe, diciamo i numeri che contengono queste informazioni vengono detti key issue, cioè i numeri chiave, e quelli vanno su parecchio di valore. Ed è interessante vedere come oscillano a seconda di eventi che avvengono nel mondo di quel supereroe. Per esempio esce il film di Spider-Man, dentro al nuovo film di Spider-Man c'è Mysterio, la prima apparizione di Mysterio sale nel mercato fumettistico. Può esserci anche il caso contrario, quindi dove va a perdere valore? Ma sì, se la gente piano piano si dimentica di quel personaggio, però è un po' difficile. Per esempio, sapevo che nel film di Spider-Verse nuovo c'era The Spot, ho preso la prima apparizione di The Spot. Io non do tanta importanza al valore, non me ne frega un cazzo, cioè io proprio nelle carte... Non lo fai per investimento. Come dico sempre, se so che hanno un valore e se un domani mi trovo in difficoltà, il mio figliolo si trova in difficoltà e io so che vendendo quella roba ci faccio qualche sordino per aiutare la mia famiglia o il mio figliolo, sono contento, mica piango. Però allo stesso tempo non è che... Oddio però... No, io siccome amo la copertina... Non è la prima apparizione di The Spot, però è un numero... È la copertina più bella legata a The Spot, è la copertina dove Spider-Man lotta con tutti i varchi che si aprono. Mi piaceva tantissimo, ho detto vabbè, me la tengo lì, costa 50 euro, intanto mi dedico ai numeri importanti. Appena ho letto che usciva il film e c'era The Spot, mi sono cacato sotto, ho detto no, mi tocca prenderla ora perché se no i normi poi mi omprano la copertina che avevo ad occhiato da una vita, allora l'ho preso per quello, ma non perché saliva il valore, mi importa una sega, cioè... Quindi... Sì, sì, chiaro. A me garbano le opertine, l'impostazione, guarda le copertina, questa mi esprime... Cioè, ci sono copertine che amo che valgono zero. Ma comunque a gusto soggettivo. Sì, sì, sì. E ci sono copertine invece albi che valgono un buato e c'è una copertina di merda. Però la prendi perché è per valore storico. Chiaro, chiaro, chiaro. Invece a livello di... Comunque collezioni... Ma se no io sto sparando parolaccia a diritto anche a chi sento... Sì, sì, qui si può. Tranquillo, tranquillo. No, certo. C'è qualche Feltri, penso, abbia detto di peggio. No, oddio. Salutiamo Vittorio. Qualche N-Word l'avrà sparata, Marzoi. Sì. Eh, c'è qualche N-Word. Vai, grande Feltri. Ma perché c'è così tanto con Feltri? No, io ce l'ho con i Destorzi in generale e con chi era vicino a Berlusconi, ma questo è il mio problema. Non è che... No, vabbè, ma questo è poi una mia idea, non è che deve essere condivisa. Però, diciamo, però il mio preferito è quello... E poi altri follower, stanno abbandonando il canale. Sì, sì, vabbè, ma va bene. Grazie, Dario, per contribuire alla disfatta di Gurulandia. Nel caso ci sono le repliche di passaparola su VHS e potete mettere a casa in videoregistratore. Però il mio preferito era, come mi ricordo, messiamo, io le parlava delle bottiglie, e lo faceva... Non si apriva nemmeno le sedice. Io sono stato il primo a importare lo champagne di Scoveca. No, la cerenza. Davide, per favore, il maestro. Il maestro. Io sono stato il primo a importare lo champagne. Prima c'è la setta bottiglia, poi c'è il bicchiere, 80 euro, perché poi la consumazione, la consumazione del tavolino... Ogni tanto fai così, però, eh. Ma c'è stato... Quello perché, ora girare Covid di nuovo, eccetera, no? Ma è per quello, eh. Sì, sì, c'è. Ma come ti permetti? No, avrei mai iniziato. Ma c'è stato un ospite di Gurulandia che ti è piaciuto? Cruciani, Cruciani. L'unico. Cruciani perché mi garba, nonostante che lui sia un destrorzo. Ma non è che, cioè, non è che se sei destrorzo mi stai sul cazzo alla base. Secondo me non c'è capito una sega, ma è un mio pensiero. Però Cruciani, oggettivamente, come showman, come performer... La mia prima volta che ho contattato Dario, scrivo a Dario, mi piacerebbe intervistarti. Puoi dire tutto, è di tutto. Mi piacerebbe intervistarti, vieni a Gurulandia, mi manda un vocale. De, ma a me quelli che hai chiamato fanno tutti ca... Ma perché, lo sai, mi dispiaceva che magari non sapevi delle robe, perché io comunque dico tutto pubblicamente, non è che me ne frega niente, e ho detto magari vengo lì e poi ci rimangono male, no? Allora io ho messo le mani avanti e ho detto, guarda, io sono così, se ti vuoi bene, invitami. Però tanti sono gli stessi personaggi che utilizzi anche te per fare views, alla fine, se ci pensi. Alcuni sì, però non li invito perché sono dei grandi o perché voglio capire come hanno fatto business. Comunque la missione di oggi, ad esempio, è parlare della tua nicchia, quindi di far scoprire, ad esempio, ai nostri follower, alle persone che ci ascoltano, il mondo che c'è dietro al collezionismo, ad esempio anche al trading di carte, a tutte queste realtà che ci sono. Certo, è la mia passione più grande, io le faccio anche le carte, cioè io proprio sono dietro alle carte di brutto, mi garbano da fatti. Infatti parliamo anche di questo, nel senso, come ti nasce, cioè ti passi da il primo approccio che hai con l'animazione, i fumetti e quant'altro avviene appunto con i fumetti. Sì. Come ti sposti poi con le carte? Come si aggiungono le carte nella tua vita? Attenzione, le carte sono arrivate per prima in assoluto, prima dei fumetti, perché prima di Topolino io ho avuto altre cose. Io sono sempre stato fissato con le edicole. Infatti mi dispiace un monte che stanno morendo, proprio come entità. Ti piaceva l'edicola perché… Prendi odori, dei colori… Eh, c'è tanta roba lì, tutta ammassata, è bellino. E soprattutto… Poi quando flexavi col pacchetto delle panini, no? Ora magari io compravo le figurine del calcio, ma no, andavo lì e ne prendevo tipo punti alla volta. Se c'avevi il calcio io c'avevo… Ma come in America c'erano il baseball, le carte… perché loro non andavano a figurine, loro andavano a set di carte. Usciva il film e usciva il set di carte del film. Laggiù, infatti, c'è un mondo delle sportive e le non sportive. Si chiamano proprio così tutte le carte non sportive, le chiamano non sportive. C'è questo macro-universo, quindi uguale a noi. Solo che noi ci trovavamo la figurina panini che loro invece non la utilizzavano, tanto lo sticker non andava. Comunque io andavo in edicola e mi carbandaccia anche ora e ai tempi c'erano tantissime bustine con dentro i pupazzetti. Non so se ti ricordi, exogeni, combattini, c'erano tantissimi. C'erano anche quelli di metallo con lo skate, gli scatenati con la cap. Erano tutti import americani. I combattini forse erano italiani, non mi ricordo. Forse sì. E c'erano anche i mostri in my pocket, che era un brand della Matchbox, un brand americano, che era a sua volta un rip-off di pupazzetti di gomma monocromatici giapponesi, perché loro sono stati, come tante altre cose, i padri dei pupazzetti di gomma monocromatici che andavano di brutto. E vanno ancora ora un pochetto. E io mi innamorai di questi pupazzetti di gomma, che erano dei mostri, i mostri in my pocket. E c'erano dentro anche la carta collezionabile. Quindi io, in una botta sola, mi appassionai a questi due mondi. E non ci sono più uscito. E soprattutto quando mi hanno regalato, sempre mia zia, il primo pacchetto di carte collezionabili, set base Pokémon, dove trovai Beedrill, come rara, io lì ebbi un flash e non me lo so più scrollato di dosso. Ho fatto tutto io. Yugi, Magic, e poi sono andato a fare proprio l'archeologo. E ora anche in Giappone vado lì a scartabellare, a comprare le arte, non comprare nessuno, la merda, proprio perché mi garba che tutto può avere un'idea. Tutto. E infatti ho rubato tanto da set dimenticati o mai esistiti nel cervello della gente per fare le mie carte. Sono fissato. Per me fermano la contemporaneità, le carte. Un po' come i francobolli dell'epoca. Bella questa cosa. O le carte telefoniche. Vero, cavolo, si collezionavano, ti ricordi? Sì, le schede delle carte. È vero, sì, sì, sì. Cioè, le schede telefoniche, anche lì in Giappone, loro ovviamente sono sempre un passo avanti. Quelle serigrafate, orografiche, tutto, componibili, ovviamente personaggi anime, set promozionali in vendita con i concorsi di Evangelion e te c'avi le schede telefoniche. Loro sono sempre, anche fatti vele, ce n'ho un pacco così, per sicurezza. Però insomma faccio un po' di archeologia di questa roba qua. Collezioni basta o giochi anche? Io mi ricordo che avevo il mazzo tra mutanti. delle magiche. Fa cagare. No, 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 è storico. Se io mi ricordo che stavo... No, no, in un gioco, perché sono totalmente inetto in ogni strategia possibile, immaginabile. Però mi piace collezionare l'artista, la storia dell'artwork. Ci sono tanti aneddoti veramente affascinanti. È come essere appassionati d'arte, solo che è un'arte pop, non è un'arte classica. È un'arte per tutti, stampata in serie, venduta, commerciale. Però sti capi... A me piace... No, scusa, vai. Ma vai, vai. A me piace parlare di soldi e farmi i cazzi di quell'altro. Quindi qual è... Ho notato. Viva i soldi! La carta più costosa che hai comprato... Il Black Lotus. Ah, quella. 8K che poi è diventato 100K. Cosa? Una carta 100K? Scriviamolo nei commenti di Gurulani. Secondo te è più facile vendere? No, l'hanno già fatto anche... A vendila, dai. No, non l'hai. 100K? Ma che cazzo... Domanda, ragazzi. Ma una carta 100K? Ma che cazzo... Domanda, ragazzi. Secondo voi è più facile vendere una carta da 100K oggi nel 2023 o una casa da 100K? Una carta da 100K. A parte che ho venduto ora a casa mia, l'ho venduta... Ci sta, quello ci sta. Questo fa capire il commercio e il mercato che c'è dietro a queste robe. Vabbè, ma il Black Lotus lo vendi a 100K. Magari un chiodo da 100K. Ma lo vendi facile? Cioè, se te domani lo metti in vendita, lo vendi... Sì, sì, qualche compratore. Magari a rate, però lo trovo. Io l'ho comprato a rate. Ma com'è che funziona? Cioè, io domandina, ad esempio, mi sveglio. Ora, c'ho Charizard. Quel famoso Charizard che vale un sacco di soldi. Charizard set base, prima edizione. Ok. Com'è? Cioè, com'è? Da domani vale 10K. Cioè, come nasce? Ma no, è come qualsiasi cosa. Come gli orologi. Come anche le opere d'arte classe, c'è il quadro. Gli dà valore il collezionista. Se non c'è mercato dietro a quell'artista, dietro a quel... Per esempio, le carte Pokémon, quando io avevo 14-15 anni, sono arrivati a 2 euro a pacchetto. Ora costano, mi pare, 6. Cioè, quindi... Sai quanta gente ora a casa si sta tirando via capelli che magari ha... Ma fondamentalmente sarà sempre... Grazie, loro! Io mi ricordo che quando ero ragazzino e collezionavo carte, tutti mi prendevano per il culo. Chi è il cretino adesso? La vendetta. Codo! Siete... Non avete mai capito un cazzo. Su YouTube non avete mai capito un cazzo. Su Twitch non avete capito un cazzo. Sulle carte non avete capito un cazzo. Continuate a non capire un cazzo. Magari qualche domanda. Fatevelo al popolo di Gurulandia, no? No, non è necessariamente il vostro pubblico, ma in generale. In questo caso. Però è vero. Oh, YouTube? No, ma YouTube morirà sicura. Ma poi fanno sto sbaglio sempre. È già morto, YouTube. È già morto. Quando non ha ancora la televisione e c'è la radio... No, ma la televisione... Va bene. Minuti contati. Web? Oh, ma tanto c'è la televisione web dove va. Bene. Poi, quante volte vogliamo sbagliare, ragazzi? Vabbè, a te sarà successo di sbagliare qualche volta, ogni tanto, nell'acquisto di un qualcosa, di un... Ah, vabbè, quello sì. Però ci ho perso 100, 200 euro. No, la mia intera esistenza. Capito? È nosa. Cioè, la mia intera esistenza la stavo per perdere, ma poi l'ho recuperata per i apeli. Può succedere. Però, è nuove tecnologie, bisogna guardare con curiosità. E anch'io stavo per fare quell'errore. Per esempio, Twitch. No, ma le dirette. E invece non avevo capito un cazzo. Però, per fortuna, adesso ho accorto il tema. Poi ci arriviamo sul tema Twitch perché te hai un bel palinsesto. Dico la verità. Sono andato a vederlo. Insomma, non è a caso quello che fai. Quindi, poi, vorrei parlare anche di questo aspetto qua. Legato al Twitch. Ma, intanto arriviamoci. Poi col tempo. Siamo al momento delle carte. E niente. Volevo capire poi come nasce il tuo desiderio di parlare alle persone a casa. Perché uno può tranquillamente iniziare a collezionare. Poi te collezioni anche action figure, se non sbaglio. Comunque nel tuo studio vedo un po' di... Qualcosina. Però sono più che altro elementi decorativi. Come l'image, mettere il vaso, la paperina di porcellana. Mettiamoci un lookbuster, tipo da 1500 euro. La paperina, come voi avete. E io non l'ho mai apito. Perché le mag? Cioè, un ci sta bene un bel bicchiere da ponce. Siamo italiani. Tratto, questo è il font Comics Loud. Non lo so, lo sai. Vero, vero. Con gradiente e poi una... Ti piace il logo? Bellino il logo, però dai. Siamo andati fuori nazione per farcelo realizzare. Non è produzione italiana. In Corea del Nord l'avete fatto. Un po' più giù. Non è in stile fumetto, manga, anche questo. Ti dovrebbe piacere. Non è in cazzo, Steddy. Vabbè, andiamo avanti. Forse la faccio io, Steddy. La faccio io. Perché io ho anche un management di artisti. Quindi mi sono buttato anche... Ah, davvero? Sì, sì. Ne gestisco una quindicina. No, ma comunque c'hai le mani in pasta in tante cose. Mentre oggi facevo alcune ricerche, ho visto che si può fare tra poco anche il viaggio organizzato con Sivola in Giappone con te. Sì, quello è più un divertimento. Vabbè, figo, cazzo. Sì, sì, sì. È bello, ma più che altro perché mi guardo abbastanza amare ragazzi, chiacchieracci, vede gli sbri luci che ha l'occhio, capito? Quando sono in Giappone. Magari sono messi a parte soldi per due anni e finalmente realizzano il loro sogno. Quello è veramente figo. Sì, sì. Però è divertimento. Oltre a Twitch e tutto quello che conosciamo e anche altre cose che le persone... Sì. È un podcast che parla di questo, cioè noi siamo... La gente che piace a te, insomma. Doce fredda la mattina. No, non è vero. Non ti fa le seghe. Allora guarda. Non ti masturbare. Salutiamo Luca. Io trombo. Mi fa le seghe, mi sveglia l'una, vo a letto alle sei, andate a fare in culo che questo ce lo aggiungo io. Non c'è bisogno di... E fai soldi uguali? Sì. Oh, vedi però... Un monte. Quindi non c'è bisogno. Non c'è bisogno di farsi... Ma perché devo partire? Ma chi so? Ehi, ciume lì, come stiamo? Ronaldo che si fa la... Perché mi devo buttare? Crio di rapiglia alle sette la mattina. Ma poi non lo fate nemmeno voi, perché vi si rattrappisce l'uccello. Già vi si rattrappisce per la bamba. Poi figuriamoci se vi buttate dentro la vasca col ghiaccio e la taglieranno. Però c'è... No, no. Si taglierà. Però non è vero, ragazzi. No Luca Valori... Non intendo dire che Luca Valori fa queste cose. Dico solo che... Mio padre Luca Valori è assoluto. Solo che... Mio padre? Assoluto. Lui... Coso... Big Luca. Sì, tutti mi garbano loro. Però anche te ben di corsi, ho visto. Sì. Come diventare ricco, ma tienitelo per te, ma se tu sapessi il trucco per diventare ricco... Vabbè, se vuoi entrare in questo argomento ci entriamo, ma poi è un casino. Perché dici? Perché non se ne esce più. No, allora no. Non se ne esce più. No, allora no. Non voglio rovinare questa puntata. Cioè, per me si potrebbe fare anche una puntata fa, anche se dove ti pare. Ma magari riserviamoci un quarto d'ora alla fine, prima insomma... Vediamo, parliamo di Twitch. Parliamo di Twitch. Però sì, mi interessa anche saper il tuo punto di vista. Mi chiudo a Riccio, voglio sapere. Ah, voglio, no? Perché io, avessi Luca Valori, lo porterei a cena subito, tu vorrei a tempestarlo di domande. Dove pigli vaili. Dubai, ma è vero che gli schiavizzano la gente o no. Maglia perfetta per questa puntata, vero? Certo, sì, sì. Ma vediamo noi quanto fattura. No, a proposito, e io te lo stavo per di prima delle nostre parentesi inutili, che a me converrebbe di base, fa Twitch e basta. Cioè, sta a casa, allo studio, fare live e basta. Perché guadagnerei di più rispetto ai viaggi in Giappone. Perché viaggi in Giappone devi prendere, partire, staccare completamente dieci giorni, fuso orario, quindici ore di volo, gli scali, vi sta dietro a venticinque ragazzi. Di essere sul pezzo, sì. Uno si perde, uno... Però quanto ami andare in Giappone? No, tanto è ok, però sono più divertimenti miei. Anche fa le carte, nell'editoria non è che girano tutti questi soldi. Cioè, per diventare ricco nell'editoria forse devi essere padrone di una grande casa editrice, perché sennò girano pochi soldi. Però lo fai più che altro per divertimento, le carte o i saggi, ora non li faccio, però molti miei colleghi sì. Eh, lo fai più che altro perché ti deve divertire un po' farlo, ti deve appassionare. Io lo faccio perché mi piace, fare le carte è un piacere estremo. Fare Twitch ti piace? Sì, tantissimo. Io avevo un po' una schiavitù, però avevo un po'. Perché te tutti i giorni devi essere lì in live. È una schiavitù se vuoi tryhardare, come si dice alle mie parti. Cioè, se vuoi spingere il più possibile, cioè facendo 10, 11, 12 ore di live per cercare di accumulare più abbonamenti possibili. Però io fai… No, te ne hai un buon palinzesto settimanale. Sì, poi c'è degli orari precisi, 4-5 ore. 5 è quando mi garba un gioco perché ci giocherei anche io fino alle 6, vado avanti fino alle 6. Ma è sempre più raro. Faccio 5 ore e poi il resto mi sveglio, sto con la mia moglie, prendo insieme a lei, faccio le mie robe. Fine settimana è per me, per i miei amici. No, no, io ho una vita equilibrata, infatti sto bene, insomma, non ho problemi di depressione. Molti miei colleghi ce l'hanno avuto, ce l'hanno. Streamer, eh? Sì, 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 problemi di… insomma, un po' non sei alienato perché sei sempre lì. Eh, infatti. Ma è normale, infatti se ne hai parlato mille volte. Io sto abbastanza bene, non so posto. L'importante è quello, trovare la propria serenità. Sì, sì. Come mai ti sei spostato? Perché all'inizio te parti su YouTube, se non sbaglio. Sì, sì. Ti sposti da YouTube a Twitch sicuramente per ragioni economiche. Sì, apri i soldi, c'è, l'ho sempre detto, sì, sì, perché non campavo più. Cioè facevo due video al mese circa, era un video estremamente lunghi. Poi erano elaborati, già. Sì, e mi ce l'aveva tanta documentazione, non avevo nessuno. Ora è stata un po' sdoganata la cosa su YouTube degli autori. Cioè ora ci sono degli autori che aiutano certi streamer, per esempio credo Esciai, che è un grande, anche Barbascura, che è un altro grande di YouTube, hanno autori, montatori, c'hanno proprio una factory, capito? E quindi è top, perché comunque velocizzi il processo, sei sempre te a capo della cosa, ma comunque vai più veloce. Io facevo tutto il conto mio e guadagnavo 80 euro, 70 euro, non me lo riordo, le cifre precise, ma non se andava sopra i 100 e io non potevo più campare perché iniziavo a crescere come età, anagraficamente. Volevo farmi una famiglia, volevo comprarmi casa e non potevo. E allora ho detto ok, devo trovare una soluzione e per fortuna Twitch mi è venuto in aiuto. Io Twitch ci volevo arsa un mille euro così per campare normale e poi è scoppiato tutto e adesso ho deciso di reinvestire quello che guadagno o in mie passioni oppure in altri... Oltre a Twitch di cosa si occupi adesso? Faccio Twitch, viaggi in Giappone, faccio l'art director per il mio management di artisti che si chiama Smile. Abbiamo lavorato già in pochi mesi, sette, otto mesi, abbiamo lavorato con Kellogg's, con Panini, con realtà locali. Sì, sì, ci chiamano per fare loghi, locandine, comunicazione di... Abbiamo lavorato anche con Fandango per un film che è stato premiato anche a Venezia. Insomma, stiamo cercando di fare... Anche qui non ci si diventa ricchi, però è soddisfazione. Cioè, fa la locandina per me del Baccanalia, è bellissimo, no? Invece la storia della locandina con i PNG spiacciati fa una cosa... Sì, sì, chiaro, chiaro. Cioè, noi in Toscana siamo abituati alle locandine brutte, tipo la saga del Cuniglio, lo prima. Giallo fluo, con la scritta nera dentro, le date, festa finita. Bellissimo. E poi faccio, appunto, i miei progetti solistici, appunto... Solisti, scusami. Quindi tipo carte con Panini, ora con Panini c'è una collaborazione attiva e basta. Quanto ti ha aiutato la notorietà che hai acquisito tramite Twitch anche negli altri? Tantissimo. 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 Ad oggi su Twitch, scusami se ti interrompo, sei il secondo italiano. Sì, è certo, il primo è Gianmarco. Sì, è piuttosto... Blurone, che per fortuna c'è lui lassù. Sì, sì, per fortuna c'è Gianmarco lassù, te lo dico sempre, perché secondo me è una persona che può piacere o non piacere, perché ha questo, come me, c'è questo atteggiamento molto spaccone, arrogante, però poi di persona è una pasta ed è soprattutto vero. Cioè è una persona che non te lo butterebbe mai in culo, è una persona corretta, una persona che si fa molto i cazzi suoi, è molto raro su Twitch trovare una persona di questo tipo, soprattutto con i suoi numeri, è quasi utopistico e quindi sono contento che ci sia lui lassù in cima piuttosto che una merdina, lo dico sincero. Eh, comunque è secondo, eh, cavolo. Cazzo, ma poi non mi dico la verità, ma non è una scusa, una paraculata, non mi piace essere il primo, non mi è mai piaciuto essere il primo. Vabbè, punti a quello. Infatti, in One Piece io ti favo... È una paraculata. No, 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 assolutamente no, se guardi il mio percorso non me ne frega un cazzo. Esatto, cioè, conoscendoti un attimo. Allora, essere il numero uno, ambizioso. Ma l'ambizione dipende da che ambizioni hai. Gianmarco, per esempio, ha quell'ambizione, cioè Gianmarco vuole essere il numero uno su Twitch e io sono contento per lui che ce l'abbia fatta e che ce la stia facendo regolarmente perché sai che devi... Sì, sì, è chiaro, è normale. Te si ho capito un attimino. Io voglio fare tre ose, cioè a me mi interessa, perché dovrei essere il numero uno su Twitch, perché devo guadagnare ancora di più su Twitch, perché chi ci fa? Me li metto un culo, sordi? Secondo me è un po' file, però, cioè non ci credo, non è così. No, ma magari sai, boh, da una parte... Ma perché per la tua concezione è impossibile non essere ancora più ambiziosi, però io sono tanto ambizioso in altri mondi. Cioè io voglio fare... Voglio rivoluzionare il mondo del collezionismo in Italia. Quella è un'ambizione quasi utopistica in Italia, perché ci sono delle cariatidi che rimangono gli fermi da cent'anni ed è difficile che lo streamer di Ole Servetti arrivi e sfondi tutto. Io voglio poter... Sfonda tutto. Più che altro la tua ambizione è più sulla divulgazione che sull'essere il primo, ok? Quindi per te l'interesse è più comunicare alle persone queste tue passioni, queste informazioni, piuttosto che mirare essere il primo. Almeno da quel che vedo, no? Dal Dario che ho qui a fianco, da tutto ciò che stai dicendo in questa prima mezz'oretta, mi sto accorgendo che per te è più interessante questo. E poi sono anche conscio che facendo interviste a Paola Cortellesi e parlando di fumetti e cartoni animati il mercoledì o quant'altro, non arrivi a quei numeri lì, ma perché è un pubblico diverso, nonostante la nicchia si sia espansa l'inverosimile, non sarà mai il pop assoluto in Italia. Ma va benissimo così, ti ripeto. Io l'ho scritto anche su Instagram l'altro giorno, voglio fare carte per tutta la vita, voglio fare Locandiner, Baccanalia, da qui fino al Postatomio. Anche perché non ho la presunzione di credere che io durerò per sempre su internet, quindi è inutile essere il primo, e questa è la mia visione, Gianmarco fa bene a fare quello che fa, è inutile essere il primo se poi quella piattaforma si trasformerà in qualche cos'altro, cambierà, non può rimanere, internet va alla velocità della luce, è incontrollato. Però non è quella la mia ambizione. Infatti per me Barba Bianca è sempre stato il più bel personaggio di One Piece da quel punto di vista, vuole una famiglia, non vuole trovare il One Piece, vuole avere una famiglia, vuole farsi tanti amici, sta bene, essere libero. La serenità è la cosa più bella. Su quello siamo tutti d'accordo, ma ognuno ha la propria visione di serenità, ha la propria serenità. Certo, ed è legittimo che ognuno abbia la visione di serenità. Gianmarco sta bene così, e sono contento che lo vedo sempre felice, cioè per lui quella roba lì è stimolante, penso. Per me quando mi sveglio e su Telegram mi arrivano gli artisti e mi mandano le carte in approvazione, devo fare le correzioni, ecco per me quello è il picco che si può raggiungere, per la mia vita. Meglio di una doccia fredda la mattina alle sei, dai. Assolutamente. Senti dai, non fassi le seghe. Ti fa disturbare. Quella è stata più della doccia fredda. Poi se non masturbassi, ma anche per le donne, non ascoltate i loro cavalori, distruggetevi. Ora scusate il gesto, annientatevi. Io lo dissi a Cruciani, nel senso. Ma poi Cruciani penso che sia molto lontano dalla visione. Vabbè, vai vai. Senti, ad oggi quanti abbonati hai in totale, più o meno? Guarda, ieri 19.000 abbiamo raggiunto. 19.000? Sì, sì, sì. Ma eri a 12 tipo un mese fa? No. Boh, non me lo diamo. Pazzesco. Ok, ma senti mai un, quello che ti volevo chiedere, hai mai un senso di responsabilità nei confronti di tutte queste? Da YouTube. Cioè, la senti per esempio quella pressione di devo stare attento a quello che dico? Perché effettivamente puoi influenzare, veramente. Aspetta. Sei un influencer o no? Non gli piace essere putato in piedi. Lo so, infatti te lo chiedo per questo. No, no, vabbè, sì, tecnicamente sì. Però, che palle. Eh, lo so. E la società ha voluto attribuire questo nome? No, la Ferragna ha voluto. Ha voluto creare questo, no, non scherzo. Eh, comunque, no, allora, senti, io ho della responsabilità per quanto riguarda il fatto di non impormi sugli altri. Cioè, per me la responsabilità finisce lì. Cioè, io devo esprimere le mie idee anche con forza, però devo anche ascoltare gli altri, ci deve essere dibattito, non devo chiudere la bocca a nessuno. Però, allo stesso tempo, te lo dico, lei mi pare. Cioè, sta cosa che su internet bisogna stare attenti a quello che si dice perché poi... No. Cioè, l'unico limite per me è la legge, soprattutto nelle battute. Poi siamo toscani, lo sapete, siamo toscani. Siamo per ridere. Siamo per ridere, il solito memmino. Però, per una battuta non ci faremo uccidere, no? Sì, sì. E io uguale. Quindi no, quello no. Però, questa è l'unica... La mia responsabilità finisce lì. Loro devono capire che il mio non è Vangelo. Vangelo, se io consiglio un manga e poi quel manga ti fa cacare, me lo devi dire in chat. Si parla del perché ti ha fatto cacare. Magari io scopro qualcosa che non sapevo e ti scopri qualcosa che non sapevi da me. Vediamo. Lui, ora quant'è, quantificami in numero gli anni in che sei live in... Cinque. Qualcosina anche di più? Se parliamo di YouTube. Ah, YouTube dal 2009, 2011 col canale da solo. Ok, ti considera, 2011 a oggi, cioè... Io veramente, l'altra sera sapevo appunto che si doveva fare l'intervista, ho preso... Mi sono documentato un pochino su di te. Bravo, così si deve fare. Allora, lo sai che ho notato una cosa clamorosa? Cioè, mi è piaciuta tanto, sotto tutti i video, ci sono una marea di complimenti nei tuoi confronti, ma poi di ragazzi che sono cresciuti con te. Eh beh, sì. La cosa bella è che sono cresciuti con te. Ma perché sono uno di quelli YouTuber che è riuscito a reinventarsi, nonostante le fasi, le ere di YouTube, perché nonostante su internet le ere siano molto più ristrette, si parla di ere. Però io, Yotobi, non lo so, anche quei due sul server sono venuti un po' dopo, anche Sabako un pochino dopo. Però di quegli anni lì, cioè proprio degli albori, siamo rimasti veramente, veramente pochi. Will Ush ha cercato, no, di reinventarsi un po' ora, fa un podcast anche lui, Feroci si chiama, no? Insomma, siamo rimasti pochi, pochi, pochi. Molti non hanno intercettato le nuove generazioni e se non intercetti le nuove generazioni poi è finita. Invece di haters, ne hai tanti? Diciamo che i miei haters sono pochi, ma sono... Cattivi. Cattivi. Sono come chi mi segue, molto affezionati. Ok, come li gestisci loro? Io rispondo molto. Ah, rispondi. Sì, ora mi sono imposto di non rispondere più, però è difficile. Ecco, io sono come Davide. Non rispondi più? Marra risponde sempre. Marra risponde a tutti. Ognuno ha la sua visione. Perché io sono convinto, Giulia Crosbo mi ha detto... No, perché anche noi ne abbiamo tanti, eh, che ci martellano. Vabbè, voi lo capisco di più perché intervistate personaggi estremamente controversi. Sì, ma non è che ce l'hanno con i personaggi, ce l'hanno con noi. No, ma è automatico. Perché gli date spazio, è sempre quello. Sì, è un automatico, te lo porti dietro, te lo porti dietro. Capito. E' normale, è normale. E' come se io intervistassi domani. Ora, ragazzi, annuncio intervista, che ne so, boh, a un criminale. E' così, è normale, si incazzano. Cioè, ho un casamoni, ambito ho un casamoni. Che cazzo fai, Dario? Vaffanculo. No, ma è un hating su chiunque porti. Cioè, poi è la fine. Ma come mai sei... Come mai ora hai detto, adesso smetto di rispondere? Cioè, c'è stato un qualcosa nella testa che dici basta, smetto di lottare. È fatica. Perché ha ragione Giulia Crosbo. Poi non ne vale la pena. Uno, ne converti. Poi non c'è da convertire. Perché però se dico una cazzata, mi piace dire, aspetta, no, hai detto una... Cioè, un conto è la critica, un conto è la cazzata. Cioè, se ti mi viene a dir, guarda, Dario, hai guadagnato... Hai detto che hai guadagnato sta cifra, no? L'hai guadagnata 30 volte di più, non dire cazzate. No, come? Stai diffamando. Cioè, ti vado a rispondere. Ma anche su altre cose. Dibatto per il costo, non un polemico. Io sono un polemico di natura. Cioè, mi garba, fa polemica. Mi garba, fa casino. E basta. Sei un lamentone. Sei un lamentone. No, un lamentone no, pigarba, fallo sempre con una verve un po' ironica, perculante. Però sono un polemico, sì, sì. L'hating nella live per uno streamer, secondo me, è anche più pesante perché può... Ti deconcentra. Sì, esatto. A me mi eccita. Cioè, ma può cambiarti l'umore proprio durante la live stessa. Ma io appena vedo un commento che se c'è 100 complimenti e c'è il commento rompio, io ne vado subito sul commento rompio. Vedi quello, è vero. Perché ti crea anche contro, vai avanti 5-10 minuti con la chat, che perculate, che dici le cazzate. Ma a volte, infatti, i commenti che arrivano sono nemmeno di hater, ma di gente che vuole fare la clip per di passarla nel gruppo Telegram e di, oh, hai visto? Mi ha risposto. Vabbè, gioco delle parti, ma è divertentissimo. È una delle cose più divertenti e esilaranti del mio lavoro. Certo, è una delle cose più difficili, immagino, sia cercare di… Di intrattenere. Esatto, cioè mantenere viva l'attenzione per 5 ore di fila. No, ma infatti lui ha un palincesto a te, ma piuttosto, voglio dire, vario pinto. Più o meno si tratta sempre un argomento… Cioè, c'è sempre un qualcosa di diverso rispetto al giorno prima, a parte mi sembra lunedì. Lunedì non si sa cosa fa, random, sì. Però su YouTube è diverso, che su YouTube non ti seguono tutti i giorni e magari vedono una cosa e fanno, oh, ma che è stato? Cioè, è tutto decontestualizzato e vanno a fare i test. Qual è il format che funziona di più per quanto ti riguarda? Le reaction forse? Sì, forse quelle, sì. Quando mi metto a guardare qualcosa e lo commento, perché io la reaction la faccio tipo la Jalappas o come si faceva ancora più indietro nel tempo, chi è che le faceva le reaction? Perché le reaction non sono una osa di Twitch, cioè le reaction in TV si fanno che in Giappone da sempre. A noi la Jalappas, la Jalappas è stato… cioè, prendeva le trasmissioni locali e ci faceva le reaction a quelle. Eh, ce l'hai tipo un mentor, qualcuno che ti ha ispirato, che segui? I grandi comici del passato. Tipo? Beh, Guzzanti per me è la base della mia vita, cioè l'ho uscito inconsciamente, inconsciamente sempre. Poi non lo so, c'è tanti film, serie italiane, però degli anni 60-70, quindi grandi, li amo tutti. Però io sono affezionato molto all'italianità del passato. Sì, parecchio. E niente, poi ho perso il filo di discorso. Tutto qua. Cioè… No, è finito. Finito, penso. Finito. Grazie, ciao ragazzi a tutti. No, io volevo… io volevo tornare all'argomento di Dubai, Luca Valori, Luca, ma lui so che non vuole. No, va bene, se lo volete attraversare, attraversarlo. Io non mi tiro indietro mai, mai, mai. No, attraversato, attraversato. No, io volevo… perché ce l'hai così a morte con Dubai? Voglio affrontarlo, questo argomento. Perché è una città di merda. Ma ci sei mai stato? No. E allora, lo vedo… ecco, allora basta, fine. Te sei una stata a Tokyo. Mi hai già detto tutto. No, e ci vado ad aprile, non vedo l'ora. No, però non dici che Tokyo è una merda. Perché non vedi l'ora? E poi me ne parlano tutti bene. Ci sei mai stato? No. Ma che cazzo hai il hype per Tokyo? Ci sei mai stato? Ma non dico che è bello o brutto. No, è ben diverso. Non è ben diverso. Mica denigro. Mica dico è bella. Non sono mai stato e te lo dirò. Io non vedo l'ora di andarci per giudicarla. Non è che se la sensazione è positiva, allora non riguarda lo stesso argomento. È una strozzata questa, dai. No, perché a me non dà per niente vibes positive. A te Tokyo dà vibes positive e quindi hai un pregiudizio. Positivo. Io ho un pregiudizio negativo. È un pregiudizio, sì, ok per entrambi però. Dubai mi fa cacare, soprattutto perché se ti documenti un attimo su Dubai, non è quello che ti vogliono descrivere. Non è tutto palazzoni. C'è il progetto ovviamente. No, no, certo. No, sono d'accordissimo. Però secondo me, perché è il nulla scintillante per città sempre magic. Cioè è pieno di palazzoni, in espansione, la sicurezza, eccetera. Sì, ho capito, ma intorno a Dubai cosa c'è? Intorno al perimetro. Perché se no è come l'attacco dei giganti. Ma è come tutti i posti del mondo alla fine. No, vabbè, ma è tutti i posti del mondo. Sì, perché in Italia non è così. In Italia non è così. In Italia non è così. Vai a Milano, vai a Milano, un piazzale del Duomo è bellissimo, vai nelle periferie. E muori, cioè è guau. Ma quanto te ne frega che la campagna di Dubai faccia cacare? Eh? Quanto te ne frega che la campagna di Dubai faccia cacare? Ah, lui zero. Alla fine tanto te devi stare lì per il tuo lavoro, per le cose che fai. Ma però a parte i lati oscuri Dubai, a me le città, Tokyo è strana perché poi anche quella è con i palazzoni grattacieli e tutto, ma Tokyo fa parte di un altro discorso che se voi affrontiamo. Però Dubai, a me sta roba dei palazzoni, dei ristoranti di lusso, delle Lamborghini, delle fanno vomitare, perché a me fanno vomitare i Lamborghini, mi fanno vomitare i Rolex, mi fanno vomitare i completi, i palazzoni e i business. Che cazzo ci vado a fare a Dubai? Non è solo questo. No, ma la pista di sci artificiale, me la metto nel culo, buon trettino, bombardini, uova specche e patate su rifugi, tra l'altro è pieno di sorca, ma chi cazzo se ne frega? Ma mi potevo andare a assaggiare la neve vera quando ce l'ho a Dupassi in Trentino e me la godo, bombardini mamma mia, le saune all'aperto, la neve ti cade addosso, sto così come il legato. Ma ci vai te, ma io non ci voglio davvero, ma poi un cardo si more, ma vai vai. Meglio Dubai o Ponte Della? Ma Ponte Della tutta la vita, boia, poi è pieno di senegalesi, va bene, sembra di essere un'afria. Vero, il Pisano è densamente popolato. Sì, ma Ponte Della sì, ma credo per via, non lo so, ma credo per via della Piaggio, perché c'è la Piaggio e quindi mi sa che tanti lavorano lì, se non è sì, senegalesi, costo Ravorio, c'è tantissimo, africani tantissimi. È ovvio che non andrei mai a Dubai, però non è che se vedo il nababbo arabo vi sotto a pescia gli fa, ma che cazzo vuoi te con le carte? No, non sono un matto. Ci mettiamo al tavolino e prendiamo un caffè, si parla normalmente e si dibattono normalmente come abbiamo parlato prima di là, nel fantastico minibar che avete nell'angolino del vostro studio. studio, tutti i complimenti sullo studio. Cioè, io non è che quando vuoi andare a Dubai e hai prenotato il biglietto ti venga a strappare biglietto. Quello sarebbe... No, perché ti saluto caldamente, c'è, vado lo stesso. E quello sarebbe fascismo. Cioè, strapparti biglietto in porti, il mio pensiero sarebbe fascismo. Ma questa storia che bisogna essere sempre accondiscendenti con l'opinione altrui e non dibattere mai, perché sennò si impone, è una cazzata nei nostri tempi. Ma secondo me il dibattito ci sta, poi chiudo. Vai. Quando l'hai vissuto, quando sai di cosa parli, se non ci sei mai stato, non puoi dire certe cose, secondo me, capito? Ma a Dubai non c'è bisogno di... Perché sono sul sentito dire. No, no, documentarsi su Dubai basta aprire un libro o vedere un documentario. Ci devi stare, ci devi andare. Ma chi l'ha detto? Ci devi andare. Quindi se vado a Dubai e dio le stesse osse, poi che scuse hai? Perché sono scuse. A quel punto va bene, non c'è stato. Ah, ok, ti arrendi a quel punto va bene. Mi devi far spendere 2.000 euro per avere. Ma io sono sicuro, se stavo per dire 4.000 euro per avere. Ma io sono sicuro, il 100% è che se vado a Dubai ti ricredi. No, no, no. È quello. Assolutamente no. Ma io ho vissuto... Ospite mio, ospite mio. No, no, non mi piace, non mi ispira, non mi va, non mi va, cioè ci sono quei posti che non ti ispirano, non ti ispirano perché la filosofia di Dubai che conosciamo tutti è inutile e non rispecchia la mia filosofia di vita, perché ci devo andare per dire... Qual è questa filosofia? Aspetta qua, scusami. Il lusso, il business, il palazzone, andare a mangiare sul rooftop, lo sappiamo, è così, non è che vai a Dubai... Ma non è così, c'è anche la Dubai Vecca dove ci sono i mercanti che ti vendono le spezie alte. Allora io non ci sono mai stato, no, però ognuno... Perché c'ha più storia, c'è il mercato di Istanbul, Dubai è una storia recente, che che mercati... Vabbè sì, effettivamente no, lo capisco, cioè ognuno ha i suoi gusti, ragazzi. E non mi piace, sei io che sto... Ma mi puoi dire andare a Las Vegas? A me, ti giuro, stare a Cercafunghi nel boschetto della collina di Ponte d'Era mi farebbe cagare, e ci sta... Oh... Ci sta, ci sta... Non è che ti viene a fare castagna e ti rifieni, perché non ti piace... È vero... A me, io quando vado a fare castagna e piango, cioè... Ci sta, ci sta... Mi piama, mi emoziona... Ma quando... Io non so, se lo sai, ma io sono... Anche per quei che vanno al chilo... Ah, buone, buone, castagna... Ti dovresti emozionare, siamo a stagione... Cento euro tipo al chilo, quando le trovate in bacane... Giustamente, a cura gioia neanche, le guardo... Si parla dell'emozione della castagna, ma anche del prezzo della castagna... Non ci dimentichiamo il motivo per il quale nasce, no, questo podcast... No, però, ecco, io sono uno dei più grandi frequentatori di Sagra in assoluto... A me mi trovi a una Sagra a mangiare, perché mi piace chiacchieracco vecchi... Però è il mio problema, cioè... Cioè, il mio problema è... No, no, è rispettabilissimo... Però ti dico, viene alla Sagra del Cuniglio e ti viene l'ortiari... No, cioè, se la fanno a Dubai, viene... Sì, la Sagra per lo schiavo... No, quello non è il mio ambiente, capito? No, scherzo... Ma te lo dico con grande multà, eh? No, no, anche le donne... Ma anche io te lo dico con grande multà, però... Se t'aspetti l'opinione... No, sì, rispetto la tua opinione, non la condivido... No, da me non sono un prete, sono una persona che, ripeto, dibatte anche in maniera molto polemica... Però è bello... Ci divertiamo, no? Quanto ci siamo divertiti oggi! Molto, molto... Apriamo il dibattito corsi... Sì, sì... Senti, come mai ce l'hai invece così tanto con chi vende corsi, invece? Perché non dicono nulla quei corsi... Ma li hai comprati? Sì... Non li hai comprati? L'ho comprato... Quali corsi hai comprato? Comprato... No, non me lo fa di... No, lo diciamo, diciamo... Mettiamo un bip, mettiamo un bip... Perché almeno posso dare con giudizio... Me l'hanno comprato per non far comparire nell'account Paypal Dario Moccia... Però sì, me l'hanno... L'ho comprato, l'ho visto e non dicono niente quei corsi... Ma di chi? Che direbbe il mio nonno quando vado a trovare l'account di servetti... Nonno, me stai... A questi politici di merda... Beh, non male... Però no... Qui fai di tutta l'urbanfascia o no? Immagino... Io ancora devo capire che corsi... Allora, diciamo che i corsi quelli positivi non sono corsi... Sono delle consulenze che ti prendi privatamente con delle persone... Che però ti seguono per un tot di tempo e ti spiegano a priori cosa ti racconteranno e che cosa ti diranno... E che cosa poi andrai a fare nel mondo del lavoro... La formazione è una roba seria, ma la formazione seria è rarissima... Per esempio, per me l'unica... Io non sono un grande esperto, non è che conosco tutti i corsisti del mondo, però... L'unico... Che poi non fa corsi... Però l'unica persona seria in questo mondo... Che infatti rivela solamente la punta dell'iceberg... Perché giustamente è un professionista... E i suoi studi fatti in anni e anni di carriera... Li svela a caro prezzo... E non ne svela nemmeno tutti... Giustamente è Mr. Rip... Che invece lui stimo un botto... Lui tra l'altro mi ha offerto una consulenza gratuita... E non ho nemmeno ascoltato perché... Sempre per il discorso che facevamo prima... A me non interessa quel tipo di commercio... Mi interessa quel tipo di business... E voleva farmi tutto un piano... Per farmi guadagnare da dei fondi di investimento diversi... Ma io mi annoio... E quindi non... Vabbè non ti interessa... Invece scusami... Sempre collegandomi al fattore corsi... Non ha mai pensato di... Di farne uno te... Esatto... Di formare le persone più che altro a capire come fare trading di carte... Perché secondo me a casa c'è tante... Ma perché non faccio trading di carte? Però sai di cosa si parla... Però non lo faccio... Potresti insegnarlo... No su questo sono d'accordo... Se non lo fai no... Però su come fare Twitch... Su come fare Twitch... Quello sì... Quello potresti fare... Cazzo sei in seconda in età... Vuol dire... 19.000 sub... A parte che non ho tempo... Ma poi non... Non mi interessa... Capito... Non... Io voglio fare quello che mi piace... Io mi annoio a di... Come fa le robe... Io consiglio ai miei amici... Se i miei amici mi chiedono un parere... Me lo chiedono sempre... Do una mano... E anche se non me lo chiedesse uno streamer piccolino... Mi è capitato cento volte... Ma non mi interessa... Fa corsi... Non mi interessa guadagnare da roba... Che non mi diverte... E lo stesso discorso che si faceva prima di Jam... Delle abbonate... Io faccio l'Ami Garba... Fa... Ti ripeto... Se io... Volessi... Fare i soldi veri... Farei maratone... Ogni due mesi... La gente sarebbe contenta... Farei il triplo degli abbonati... E c'è ora... Perché con le maratone ho sempre fatto... Il boost degli abbonati... E basta... Ma non mi interessa... Ma per farmi i cazzi di tu... Quanto si guadagna con Twitch? Se sei un Dario Moccia... No... Perché smetto di fare le micose... Mi metto un attico più... Al mese si fa... Dai 30 a 35 mila euro... Sono arrivato anche a 38 mila... Da tassare... Da tassare... O lordi... Sì... Sì... E poi tutte le altre collaborazioni che Twitch ti dà... Sarei meno se si poteva dire... Vabbè... Boh... Mai ho detto... Vabbè... Informati... Al massimo si taglia... No... Non si taglia niente... Beh... Tecnicamente... Per regolamento... Non si potrebbe dire... Mi va a nerà... Mi va a nerà... No... È finita... Perché non lo puoi dire? È finita... Non lo so... Ma non si può dire... Cioè non si può dire quanto prendi da Twitch? Secondo me per il discorso delle pubblicità... Perché... Perché non tutti ti prendono uguali? No... Sì... Però... Con gli abbonati... Puoi prendere... Cioè puoi fare la moltiplicazione e lo scopri... Però ci devi aggiungere anche... Le pubblicità... Cioè quando apri la live... Quando ti parte la pubblicità... E decide lo streamer quanta pubblicità mettere... Quindi cambia... Secondo me per non far capire quanto danno gli sponsor... Così a naso... Forse... Sai... Spionaggio industriale... Oppure è una paraculata... Non lo so... Comunque c'è da considerare che è il secondo in Italia... Quindi poi... Cazzo... Arrivare a quelle cifre che sono importanti... Sono un ottimo cifre... Per questo motivo che oggi sei qua... Non è... Non è una roba per tutti insomma... Comunque... Io... Ecco... Con le maratone fai il doppio e il triplo... Quindi mi onverrebbe... Come mai fai il doppio e il triplo? Infatti scusate... Vi ho interrotto... Perché fai live tutto il tempo... E essendo in live tutto il tempo... La gente si abbona di più... E poi si abbona per aumentarti il timer... Perché io mettevo il timer... Che più t'abboni... Più aumenta il timer con cui io sto in maratona... Io facevo dei numeri... Ah cazzo... Allucinanti... Mi converrebbe fare così... Ma non lo voglio fare... Uno perché voglio stare con la mia moglie... Con i miei amici... Vabbè c'è compromesso... Voglio stare tranquillo... E poi perché non me ne frega nulla... Cioè... Voglio fare anche altro... Ve l'ho detto... So che è difficile l'HP... Però i soldi non so tutto... I soldi si pigliano e si investono... Non so tutto quando già comunque guadagni certe cifre... Ho capito... Ma io mi tengo pochissimo di quello che mi tengo al mese... Quello che mi guadagni al mese... Pochissimo... E te li metti? Io ho tutti i soldi... Progetti miei... Ah ok... Però... E li investi... Sì però... Su investimenti... Forse ti torno... Forse no... Sono tutti salti nel buio... Vabbè è normale... Come un po' tutti gli imprenditori... Certo... 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 Però eccomi... Mi va di... Ma senti un po' Quando ci fu il boom delle NFT... Ti appassionasti... No... Ma perché non mi piaceva quel mondo lì... Eppure... Cioè... Te sei uno di quelli che dà sempre tanto valore... O comunque apprezzi tanto l'estetica... Della figurina... Della action figure... Della carta... Scusa la volgarità... Però a me la Fia piace nel cala senza mutande... Hai ragione... Ok... Ho capito cosa intendi... Non ti bastava guardarla... La dovevi toccare... Cioè... La carta va toccata... Va messa nell'album... No... Ma te lo chiesto apposta infatti... NFT di bello... Sì... Ti ho capito... Alcune... Ma torna perfettamente al discorso che faceva iniziare... Cioè... Alla fine l'NFT... Secondo me... Chi li compra lo fa proprio solo ed esclusivamente in ottica investimento... Non per gusto personale... Lui invece acquista proprio per... Perché gli piace... Beh... Bellissimo... Ci sono... C'erano delle NFT che magari uno... Magari come lui appassionato... Poteva anche prendere semplicemente perché gli piaceva il soggetto... No... Non mi piaceva quel mondo lì... Anche lì mi annoiava un po'... E ho detto... Vabbè... Faccio altro... Rimango sulle carte... Senti... A lungo andare ho avuto ragione... Eh sì... Un pochino sì... Poi vedremo come andrà... Totto Dario Moccia... Chi è il tuo... Twitcher preferito? Si dice Twitcher... Non vorrei dire nada... Sì... Streamer... Streamer... Ok... Ok... Tu Twitcher... Allora... Che mi piace... Persona fisica che registra davanti a un computer... Tutti i miei amici... Tutti i miei amici... Mi fanno ridere di base... Che io collaboro con chi mi fa ridere... Perché è bello... Rida insieme... No... Quindi c'è... Poli... Nani... C'è il miliardi... Dada... Eh... Mario... Ci faccio un sacco di cose insieme ultimamente... Mario Sturniolo... C'è Marco... Lo stimo parecchio... Come ti ho detto prima... E poi... Non lo so... Di streamer che seguo... Bene o male... Sono questi qua... E qualcuno ti sta... Ah... E poi sono una milizia di Marco Merrino e Sdrumox... Cioè io so fissati... Una grande Sdrumox... Una grande... Forse sono i miei preferiti... So veramente tutto... Recupero tutto... Anche Panetti... Sei stato amico di... Cioè sei amico di Panetti... Panetti per me... Non lo metto in questo conto... Perché Panetti per me è oltre... Grazie Simone... Ciao Simone... Ma Grimbaud... No... No... Grimbaud non lo seguo... No... È un bravo ragazzo... Per me è Simone... Quindi... Però non mi piace quello che fa... Ma perché proprio... Non è il mio... Però lo sbaglio... Sono tipo... Ci sono un po' delle... Sono vecchio... Ci sono delle fazioni... Proprio no... Quello è un gruppo... Io non ho fazioni... Ok... Però loro mi sembrano tipo un gruppo a sé... Sì... Però ho piacere anche andare da lui a far casino... E a rompere un po' quella... Quel programma che lui si è fatto... Infatti ora... Vuole invitarmi per fare delle robe insieme... Forse domani facciamo una roba insieme... Non ho problemi a mescolarmi un nessuno... Mi garba... Fa casino... I crossover strani... Mi sono sempre piaciuti da morì... E poi devo citare ovviamente Davide Masella... Che è il mio più grande collaboratore... Non lo chiamo socio... Perché non abbiamo società insieme... Però collaboriamo... E ci consigliamo... Su tutto... Quotidianamente... E che è quello che poi sta in studio con me... E ha la sua postazione in studio con me... E noi stiamo facendo tutto insieme... Ci stiamo divertendo... Anche lui lo fa per il divertimento... E che guadagno è poco... Anche gli eventi che abbiamo fatto live... Ci abbiamo guadagnato... O zero... O mille... Due mila euro a testa... Però la soddisfazione... Per esempio... Il pub live... Lo dico senza problemi... A Cole Servetti... Io e lui ci abbiamo guadagnato... Tre e quattro mila euro... Da divide... Da tassare... Quindi il niente... E c'erano mille persone... Tretta di mano alla fine... Mille persone con... Serata in discoteca... Catering e tutto... Quindi... Vabbè... Zero... Però... La soddisfazione di vedere... Mille persone a Cole Servetti... Esatto... Sì... Chi cazzo me la ridà... Me la danno soldi... Oh... Gurlandia... Dovete la pillola... No... Quello ti capisco... Gli eventi al vivo poi sono... Sono belli... Ma... Senti una cosa... Ti volevo chiedere... Siamo prossimi... A uno degli eventi... A mio parere... In Europa... Lo citava anche Marco... All'inizio della puntata... Più grande no... Il Lucca Comics... Sì... Cosa ne pensi del Lucca Comics... Com'è cambiato per te negli anni... Se sta andando in meglio... In peggio... Se ne vuoi parlare... Se ti puoi sbilanciare... Cosa puoi dire... Che cazzo vuoi fare... Mi sembra che qua... Non è che ci siamo sbilanciati pochissimo... Quindi ci sbilanciamo... No... Io le penso... Ma al solito... Io ti dico che non... Semplicemente... Tra l'altro sarei ospite... Prende tutti i giorni... Perché dall'1 al 5 novembre... Ben ormai... Il 2, il 3, il 4... Sono sempre a filmare le carte di mostri... Ma guarda... Io ti dico che... Per me... Era più una gioia prima... Ma perché... Andavo da ragazzetto... Che andava a girare di stand... Andavo con il mio trenino... Da Pisa... Facevo brucia a scuola... Ovviamente... Cosplay... Ti vestivi? No no... No mai... No no no... E andavo lì... Con il mio amico Matteo Risso... E si andava a... A prendere fumetti... E poi col tempo... È diventata più dura per me... Perché io non mi maschero... E alle fiere... E quindi... È un casino... Come fai? Io mi fermo... Cioè tipo... Il sabato ai comics... Che vita è per te... Guarda... Mi stanno venendo i flashback da Vietnam... L'anno scorso è stata... Tosta... Quest'anno... Sono rinchiuso in uno stand... Però per arrivarci sarà... Una bella... Tosta... Poi c'è l'intervista a Urasawa... Che è il mio maestro assoluto... Ce l'ho anche tatuato addosso... Quindi intervista all'autore... Dei mie manga preferiti... E forse uno dei miei autori preferiti di sempre... Per me è una... Mi ha fatto cresce... È un'ansia... Niente male... Anche perché saremo su un palco con la gente... L'ansia sale... Però ecco... Vediamo... Ehm... Non lo so... Per me è... È un po' un tirare la corda... Perché le persone aumentano... Il caos aumenta... E Luca non è... Secondo me è ancora... Adatta... A contenere quella mole infinita di persone... Si parla di... L'ho detto all'inizio... Lo ripeto... Siamo intorno ai 270 mila biglietti venduti in 5 giorni... Ho paura... Ho paura... Chi magari non è mai stato a Luca... Non se ne renderà conto... Ma Luca è una città che... Al di là delle mura storiche... Poi i vicoli sono stretti... Ma è l'evento più grosso a livello europeo... Europeo secondo me sì... Oddio... Forse c'è qualcosa in Germania... Angulem... Italiano sicuro... Italiano sicuro... Italiano per forza sì... Italiano sì... Europeo forse il primo... Sì sì... C'era Angulem... Ma forse l'ha diventato il secondo... Ma a livello di qualità... Contenuto... Roba che puoi trovare... Lo reputi un buon evento... Cioè si possono fare dei buoni affari a Luca Comics... Per chi va da compratore... Secondo me non più... Non più eh... Adesso speculazione... Prezzi altissimi... Non lo so... Ora... È tanto che non faccio la Luca da... Da acquirente... Quindi non saprei... Però... Secondo me no... Vedendo anche le altre fiere... Direi di no... Però... Cioè non è più la fiera... Ma fiera... Cioè... Vieni con la gente che urla... Con le offerte sensazionali... Mi sembra più un... Un raccoglitore di negozi... Cioè... C'è tanta scelta... Perché è un... Come andare al supermercato... Delle fomentere... Proprio il motor show... Se te pensa che è così influente... Che alcuni negozi... Ad esempio alcuni commercianti... Di Luca... Che hanno il negozio... Subaffittano in quei giorni... A persone che vogliono avere lo stand... Del Luca Comics... E vendere che ne so... Insomma quelle devono avere... Un beccasino... Cioè... Pazzesco... Senti risposte secche? Facciamo? C'è anche la sezione... C'è la sezione risposte secche... Hai detto... Hai visto tutte le puttate grurante... Quindi la conoscere... Sì sì sì... L'ho vista... L'ho vista... C'è anche quella di Sgarbi... E se è bella... Sgarbi non me la ricordo... Lei dice... Donne o... O quadri... Donne o quadri... Donne o quadri... Bucchini o meloni... Vabbè vero... L'abbiamo preparata anche per te... Roba semplice... Non ti preoccupare... Sei pronto? Sì sì... Vittorio Feltri o Alessandro Orlando? Alessandro Orlando... Big Lu con Luca Valori? Dio moro... Un carcio a un culo... Un carcio a un levante... Devi scegliere? No scherzo... Sto scherzando... E' stati... Facciamo... Facciamo... Luca Valori... Vai... Blur o Marra? Marra... Gurulandi o Muschio Selvaggio? Muschio Selvaggio... Dubai o Stazione di Poggibonzi? Stazione di Poggibonzi... Che sempazità... Anche Ettore a Poggibonzi... Twitch o YouTube? Ebbè... Twitch ormai... Magic o Yu-Gi-Oh? Magic... E' meglio... Magic? Sì... Goku... Yu-Gi voglio tanto bene... Però... Magic è... L'unica che secondo me... È salita di qualità... Invece di scendere... Yu-Gi-Oh! È un po' sì... Sì è vero... Magic e Pokémon? Pokémon... Primo amore non si abbandona mai... Pokémon è il tuo preferito... Sì... Anche se fanno tantissime cazzate... Però è il primo amore... Come fai? C'è una questione affettiva... Eh certo... Goku o Pikachu? Goku... Livorno o Pisa? Io sono pisornese... Lo sai? Io ho babbo di Pisa... Mamma di Livorno... Quindi come cazzo faccio a scendere? Poi a babbo... E come scegli tra la mamma e il papà? Devi scegliere... No qua non scegliere... No devi... Non puoi... Saresti il primo ospite che non scegliere... Non puoi... Come si fa a scegliere... Livorno o Pisa? Sono nato a Pisa... Ti dico Pisa... Facciamo così... Boyade o Maremma Maiala? Boyade... One Piece o Dragon Ball? Dragon Ball... Giorgio Vanni o Cristina D'Avena? Giorgio Vanni... E poi l'ultima... Minecraft o Fortnite? Minecraft? Ma sei pazzo... Io lo so... Io non conosco l'uno del lato... Minecraft è il gioco più bello del mondo... A Fortnite c'è il gioco più bello del mondo... Quindi dovete spiegare come mai è il gioco più bello del mondo... Perché è il gioco... Cioè quando ti pensi... Allora... Pensa... Veramente... L'hai mai visto Ratatouille? Sì... Ok... La scena famosissima di lui... Mangia Ratatouille e torna indietro nel tempo... Quando ti dico di pensare al gioco... Non al gioco da Talal Magica... Proprio al giocare... Cioè... A qualsiasi cosa che riguarda il gioco... Cioè... Costruire... Scoprire... Gettarti nel vuoto... Scoprire segreti... Affascinarti per l'immagine a schermo... Il mistero... Ti trovi tutto dentro Minecraft... Tutto ciò che è legato al videogioco... Qualsiasi componente emozionale e sentimentale... Che ti lega al videogioco... Manca il concetto di gioco... È dentro Minecraft... E ti dico Minecraft... Io ti dico... Te puoi essere quello che vuoi dentro Minecraft... Puoi costruire quello che vuoi dentro Minecraft... Puoi fare quello che vuoi... Hai una libertà totale... È evoluta la grafica e anche il modo... Sì... Per forza è evoluta... Perché oggi hanno gli strumenti per fare un lavoro fuori dal mondo... Sì ci sono anche i shader... Dove moddi il gioco... E lo puoi fare più realistico... Però... È quella la sua forza... Cioè il fatto di concepire un mondo a cubi... Ti permette di avere quello che vuoi... Minecraft o GTA tipo... No Minecraft... No guarda veramente... Radicato... Ho notato proprio questa cosa... Proprio crea una spaccatura... Cioè c'è chi gioca a Minecraft... Proprio ha uno stile... No no no... Non crea una spaccatura... Ma Minecraft mi viene in mente surri... Chi... Allora... Chi... Dice che Minecraft è noioso... La spaccatura è... Non è... Tra chi ama Minecraft... E chi odia Minecraft... La spaccatura è... Tra chi ha giocato Minecraft... E chi non ha giocato... È vero... Ah dici così... Cioè se io... Ora voglio provare... 100% Guarda io non gli do... Cioè... Ovviamente... Fucilatemi... Ma nel senso... Non gli do tanta fiducia... Perché gioca i giochi... Con grafica molto bella... Capito con roba... Anch'io non gli ho dato fiducia... Io ho scoperto Minecraft... Circa tre anni fa... Quindi proprio... Recentissimo... Recentissimo... E sono rimasto... Folgorato... Che poi è come un Roblox... No... No? Detto un cazzata? Un po' diverso sì... Ok ok ok... Ho capito... Ma tipo Kingdom Hearts... Queste giochine che... A me... Non Minecraft... Ma Kingdom Hearts... Ma è un'altra cosa... Cioè... Minecraft va oltre questo concetto... Sì sì sì... Cioè il concetto di grafica... Di narrazione... Minecraft sei te... Cioè sei te che vivi... Esplori... Che veramente... Con i tuoi amici... Prendevi la tenda... Lo zainetto... E andavi nel bosco... Convinto che fosse... Il castello di Ganon... Poi è proprio Pain World... È proprio Pain World di quello... È proprio... Ti fai... Il palazzo... Ti fai la capannuccia... Ti fai il tuo allevamento... Oppure vai a scoprire dungeon... Vai sottoterra... A vedere cosa... Nascopo... Poi hanno fatto aggiornamenti... Dove il sottoterra... È ancora più grande... Ampio... Vario... È un'emozione... Quando scopri... Anche scoprire un animale nuovo... Oddio il panda... Ti sembra... Hai trovato un panda... Nella vita vera... Qui sotto... Cioè Arbar... Ma la play giochi... Tipo... Gioco tutto... Poi i miei generi... Però provo un po' di tutto... Che generi hai? I platform... Mi piacciono da morire... Cioè Crash Mario... Ti ha fissato... E poi... Giochi con una grande... Componente narrativa... Mi piacciono... Ora ho finito... Red Dead Redemption 2... Tipo Last of Us... Eh sì... The Last of Us... Devastante... Mi straziano il cuore... Però sono anche uno... Che vuole solo gameplay... Ora... Per cazzi mia... Sto giocando... Blasphemous 2... Che sono molto fissati... Con i Metroidvania... Che sono comunque... Un sottogenere del platform... E... E... Blasphemous... È un sottogenere... Metroidvania... Perché sono... I Soulsvania... Cosiddetti Soulsvania... Quindi una sfumatura... Metroidvania... Li ho provati quasi tutti... E... Mi piacciono... Vabbè... Allora... Anche te... Ovviamente... Ti chiedo... Scegli te la tua doga preferita... Dov'è quello degli champagne... È lì... Dietro di te... Guarda... Davide... Accanto a Davide... Allora... Guarda... Guarda... Allora... 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 Non ti permetto... Di parlare male... Davide... La silenzia... 70 euro... Un'ora... Però... È stato il primo... È stato il primo... La tonica deve essere ghiaccia... È stato io il primo... A capire... Che la tonica... Dove essere... Cioè... Il mio preferito... Qua... Dov'è? Lui è lì... Lui è lì... Ogni volta che... Ogni volta che me lo stai denigrando... Mi crei un infarto... Smettila per favore... Eccolo lì... Bella... Vado bella... Eccola lì... Bellissima... Sono una firma di un pazzo... Allora... Io ti ringrazio tantissimo... Grazie a voi... Sono due persone completamente diverse... Ma... No... Veramente... Ti stimola... Cioè... Ti rispetto tantissimo... Dialettica della Madonna... Persona super in gamba... Veramente... Vabbè... Grazie... Io sono venuto qui per divertirmi... Spero vi state divertite... No... No... Siamo divertiti... Siamo divertiti tanto... Tante risate... Tante risate... È molto bello vedere... Cioè... Proprio lo trasmetti Dario... Io ora... Averti dal vivo... Vederti... È diverso... Però... Riesci a fare... La stessa cosa... In entrambi i posti... Top... Cioè... Trasmettere alle persone... Proprio la tua passione... È incredibile... Prima quando sei partito... Nei primi 10 minuti... Non gli piacciono gli elogi... Ti piacciono gli elogi... No... Ti sono già... Vattene a fanculo... Nel senso... Vattene a fanculo... Vole a dire... Comunque dai... No... Un bel... Un bel complimento... Perché te lo meriti... Non tanti oggi... Si possono permettere di dire... Faccio... Quello che mi va di fare... Andate a fanculo... E quindi... Top... Complimenti... Cioè... Secondo me... Sei un grande... Bravo... Sì... No... Mi sembra una persona... Che ha trovato la sua pace interiore... Che è una cosa... Fantastica... Ma senti una cosa... Quanto fatturano i popoli? Non lo so... Cioè... L'azienda... Oddio... Non lo so... Però credo che sia ancora... No... Prendiamo... Il brand... Il brand... Ah... Torniamo... L'ultimo proprio... Maratona... 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 No... Il... Credo che sia ancora il brand... Che fattura più di tutti... Sulla terra proprio... Eh... Te lo dicevo... Sulla terra... No... È paziente... No... Ma te ho un'idea... Di tutti i brand di... Ma di quel settore o di tutti i settori? Di tutto? Mi sembra... Tra diritti, carte... Follia loro... Follia... 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 Calcola che il videogioco... Che è partito da lì... Ci giocavi? Eh... Sì... Eri lì con il Game Boy... Che ti scambiavi? Col Game Leak? Verai... A che eravi? Livello 100... C'era il... Lo sdoppiatore nel... In Pokémon Horror... E... No... E argento... E poi Cristallo... Capolavoro vero... No... Niente... È un po' come un oro... Capolavoro... Capolavoro... È un po' come un oro... Cristallo però aveva anche le microanimazioni... Alla perfezionamento di oro e argento... Sì... No... Cristallo non l'ha mai giocato... Era un po'... Comunque no... E... Il videogioco è il... La fetta credo del loro business... Più piccola... Su tutto il resto... Carte... Gadget... Tutto... Poi diritti... Sarà tutta una mara di roba... Eh... Ma chè c'è un proprietario... Non è... No... No... L'inventore di Pokémon è stato uscito a giri... È a Pugibon si vive... Che ora è sparito un po'... Magari... Al breve faccio due chiacchiere... Deve essere un genio... Non da poco... Però è... È un po' sparito dai radar... Non si fa più tanto vedere... Non si sa bene perché... Ci sono delle ipotesi... Vabbè... Sarà lì... No... Non credo... Non credo... No... Ma anche Ishiroda... Che è ricchissimo con il suo One Piece... Lui lavora sempre... Gli ha detto che non guarda il conto in banca perché ha paura di vedere quanto c'è dentro... Ma anche quella gente spinta da passione vera e basta... Eh... Capito... Si torna a quello che ti ho detto io... C'è gente che lo fa perché... Proprio di garba... Anche perché per arrivare a quei livelli... No... È possibile... Sono contenti del denaro... Non è che il denaro fa schifo... Però sono più contenti di altro... Chiaro... Sì... Sì... Quello ti salva il culo... Intanto... Rimani copiati per terra... Forse anche per quello... Rimango a Cale Salvetti... A Ponte d'Era... Rimani copiati per terra perché in questo lavoro è facile perdere un po' la bussola... Non ti ricordi più chi sei... Alla fine fondamentalmente tu potresti condurre il tuo lavoro ovunque nel mondo... Sì... E non hai mai considerato di andarti... A Dubai tipo... Un pochino... Una... Una bella parte mentina a Dubai... O tutti i scopi... La Borghini... Dai... Non ho il fisico... Sai chi lo disse questo? Crozza... Crozza lo beccarono a giro con la Porsche... Ah... Che far comunista... Beh... A parte che... Può far quello di gli fare... Però... E lui disse... No ma... In realtà stavo girando uno spot... Eh... E disse... Non ho il fisico per la Porsche... Mi rimase impressa sta frase... Non so perché... Ma... Secondo me racchiude... Tanto di questo concetto... Comunque sì... A Milano per qualche giorno ci ho pensato... Poi... Ci siamo guardati Agnese... Ma dove cazzo si va? Quale sarebbe stata la meta? Eventualmente? No... Presa in considerazione... Milano... Ah no... Io intendevo proprio fuori dall'Italia... Avere magari un regime fiscale più acevolato... Tanto voglio dire... Alla fine che cazzo... Fiscale insieme... Hanno staici insieme... Quindi... E poi c'ho tutti i miei amici... C'ho ancora l'amici di Colle Salvetti io... Trent'anni ci sono oscita... Dove vo? Ma i tuoi... Mi morirei... I tuoi quando hai... Deciso no... Di fare questa... Ormai si fa... Un episodio 2 no? No... Ero interessato... Cioè... Prima gli dicevi che... Cioè... Se ho capito bene... La tua è una famiglia esatto... Di ristoratori no? No... Ma in realtà no... Mi pare era un operaio... Faceva l'idraulico... In un'azienda... Il Pistoia... L'azienda Pistoia di Pisa... Non so se... Cosa è Pistoia di Pisa? No... Era il cognome del proprietario... Ah ok... Se le vecchie aziende... Che prendevano il nome del... Cosa si occupava? Faceva l'idraulico... Ah idraulico... Sa quello da barzelletta... O quello da porno... Con la valicetta... Con... La valicetta rossa... Con... E... E Mima era la segretaria... Dentro a quell'azienda... A quell'azienda... Poi rimase incinta... E... E da lì ha fatto la casalinga... E poi faceva le pulizie... Nelle case dei ricchi... Di Cole Salvetti... E... E niente... Quindi... Eravamo molto modesti... Eravamo poveri in realtà... Molto molto poveri... E... Infatti... Io ero un po' come Charlie... Mi regalavano un pacchetto... Per la comunione... Il compleanno... E' il Natale... Di carte... Io volevo solo velo... Mi ricordo ancora... In che occasione... Mi sono state regalate le bustine... E perché... Mi ricordo a Natale... Mi regalarono un mazzo fossil... Con l'apras olografico... E era per me... Era il Natale più bello... Apoteosi... Che erano tanti... Campioni... Avevo tante carte... Tutte insieme... Nel mazzo... E' un po' come prende... Una scatola di gratte e vici... Grattata tutta... Bravo... Sì... 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 Di strapperei gli arti... Ehm... Comunque... Poi... Mi pa... E... 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 Ha fatto... Un mutuo... Non so nemmeno come... Ai tempi si poteva da... Per fare un pub... A Cascina... Missiva pub... Che c'è ancora... E' andato molto bene... Poi iniziavano a invecchiare... Gli orari iniziavano ad essere un po' troppo limitanti... Per gente della loro età... E dovevano tornare a casa... Per esempio un quarto d'ora di Fipili... Per tornare a casa... E hanno detto... Sai cosa... Si vende... L'attività avviata... Che è comunque un'attività... Bastanza redditizia... E a quel punto mi fa... Fa... Tutto a nome di Mimà... Tra l'altro... Perché l'idea sono di Mimà... E Mimà firma... Poverina... Fa due mutui... Per fare il ristorante... Il next level tipo... E l'anno scorso... L'hanno estinto... L'hanno aperto... Tredici anni fa... E' sempre aperto quindi... Sì... E sono arrivati a sessant'anni... A guadagnare dal ristorante... Però... Era un sogno... Vuoi pubblicizzare il ristorante... Dov'è? E... A... A... A Cale Salvetti... E come si chiama? Ristorante Via di Guinceri... Via di Guinceri... Poi ti fa la fattura... E all'uscita... Sì... Sì... Così la scalo... E alla... SRL fa comodo... La scali te... C'è SRL anche te... No... Lui c'ha... Io sono a Dubai... Ma che... Ve lo vedi? Te sei forfettario ancora... Ma che... Sono a Dubai... Forfettario il cappello lo supera al minuto... Io ho società là... E vivo là... Sì... E cosa? Sei a BTV? No... No... BTV domani c'ho l'aereo... E torno là... Sono tornato ora una settimana per fare le intervie... Ma che sta piano per il culo... Vero, vero... No, no... Vabbè... Il mondo è bello perché va... Eeeh... No, no... È vero, è vero... Domani c'ho l'aereo... No... Più che altro in Italia... Lui un forfettario al giorno... Non lo supera... Ma... Ma te hai mai individuato il camion che porta via la tua merda? No... Però... Lo so... Mi piacerebbe... Ma perché se me c'è... Aspetta... Che cazzo dice... Eh... Perché lo sai... No... È assurdo... Guarda... Sì, hai ragione... Ora io non ho capito... Portano... Perché la merda la raccolgono e la portano via dei camion e la portano fuori nel deserto... In mezzo al deserto... Ah, la scariano... No, no... Vabbè, è concino... Alla fine è organico... Eh, per la sabbia, giusto... Ehm... Vabbè, comunque a parte la merda di Dubai... Ehm... Niente... Ma scaricano la merda fuori dalla... Sì, certo... Ma lo sai che il Burj Khalifa, che è il grattacielo più alto del mondo... Non ha una rete fognaria... Non ha una rete fognaria... No, non c'è una rete fognaria... Cioè, uno caga dal cinquantesimo piano... Questa merda arriva in fondo e arriva direttamente in questi camion... Che poi la notte prendono la portano via... Ti giuro... Ti giuro... Sono in fila per uscire da Dubai con la merda... Ehm... Vabbè, comunque... Niente... Così, per una piccola parentesi... Non mi ricordo più... Quindi la storia del ristorante è andata così... E poi, come avevo detto all'inizio, mi pare... Loro avevano un socio... Avevano avuto vari soci... E poi... In ultima istanza c'avevano questo socio... Io ho deciso di liquidare il socio... E ho comprato... Una... Una quota... Ma non per guadagnarci... Anche perché non mi danno niente... Vado lì ogni tanto a portare gli ospiti di Radio Tomodashi... Così sono contenti... Di mangiare lì... Che è un format del mio... Format... Insomma, comunque una rubrichetta del mio canale... E... E niente... E poi basta... Cioè... L'ho fatto più che altro per restituirgli un po' tutti i sacrifici che hanno fatto... Comunque perché io volevo andare all'artistio... Mentre tutto con le servetti... Perché sa le realtà di paese... Soprattutto negli anni 90-2000 erano stronze... Era la scuola dei drogati... Dei pochi di buono... Io invece... Dei comunisti... Dei comunisti... Vabbè... Quello... A scherzo... Non sono comunista... Ehm... Però... Voleva andarci... Io a me garbava l'artistio... A me garbava la disegnaffa... E poi anche... Ho fatto due mesi di lettere e filosofia... Avevo fatto la scelta più sbagliata del mondo... Gli ho chiesto di pagarmi la laba... Lo sostiene anche Feltri... E dopo la... Dopo la quota pagata all'università di Pisa... Hanno comunque fatto un sacrificio in più... E mi hanno... Perché ero in lacrima al telefono... Quando sbagliai... Mamma ho sbagliato... Poi piangevo... E loro mi hanno aiutato anche lì... Quindi... Mi sembrava giusto restituirgli qualcosa... E farli stare tranquilli... Perché adesso che sanno che è tutto loro il ristorante... Insomma... S'arzano con un sorriso più... Ma hai fratelli e sorelle? No... Sono figlio unico... Per fortuna... Perché per fortuna? Ho fatto dannare i miei genitori in età... Perché ero così ma molto molto peggio... E poi ero così... Già a dieci anni... Quindi immaginati quando invitavano parenti... Io già provocavo battute... Casini... Eh... Non è stato facile per loro... Sembravo un pazzo... Forse un po' lo sono però... Sembravo un pazzo... Sei contento della tua infanzia? Sì... 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 Sono contento... Ho avuto... Un momento casa dei... È vero... Un momento casa dei... Siamo bianco e nero... Ah... Raccontami questa cosa che mi incuriosisce... Ma sul serio... Ma sul serio... Ma ti menavano quindi... Ma qui ti picchiavano... Ma quindi ti hanno abusato... Eh... Sto scherzando... Eh Luca... Però... Se mi fai sapere quando devo venire... Devo venire a One More Time... Perché mi ha fatto la pre-intervista... E poi sei sparito... Vorrei sapere... No... Attenzione... Ma io lo chiedo... Ma lo chiedo... È un appello il mio... Come alla Rai... No... Si facciano gli appelli... Per far tornare le persone a casa... Cioè lui ti ha cercato... Eh sì... E poi è sparito... Ha fatto ghosting... Però mi sa che dopo questa cosa... Ti ha ghostato... Mi chiama più... Eh... Non mi ricordo... Vabbè cosa dicevo... Eh sì... Poi... Il ristorante è andato bene... Io sono contento... Per loro... Hanno fatto grandi sacrifici... Hanno sopportato tanto... Però ora sono molto orgogliosi... Anche all'inizio... Soprattutto Babbo... Non credeva molto in... In YouTube... Poi quando ho iniziato a portare il pane a casa... Non ci vorrebbe il pane a casa... Eh... Per credere in queste cose... Però... Eh... Quando... Era più tranquillo... Nel vedermi tranquillo... Economicamente... Allora ha capito che forse... Poteva esserci qualcosa... E ora lui è diventato praticamente il mio collega... Perché... È un mostro di TikTok... Mi padre... Davvero? Sì... 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 Eh... Ma se lo vedete... È quello che urla la carne... Fa... Tassa... Pia le bistecche... Guarda... Guarda che i bistecche sono questi... Quello è il mio padre... Eh... Ve lo aveva cortato... Un mille anni... Cosi... Braccialetti... Cose... Capelli bianchi... Sparati... E lui mi fa... Eh... Ti salutiamo... Ti salutiamo... Fabrizio... E poi... Mi ma... Fa la chef lì... È capo chef... È proprietaria... E poi c'è... Insomma... Saluto tutti i ragazzi... Sta andando tutto molto bene... Non bisogna lamentarsi... Infatti... Mi aspetto una disgrazia... A breve... Certo... Disgrazie... Sono sempre... All'ordine del giorno... Famiglia Moccia... Però... Ma inese... Quando l'hai conosciuta invece? Dieci anni fa... Ah... Tanto ci stai... E quanto tempo fa... Vi siete sposati? Un anno fa... Un anno fa... Ah ok... Quindi... Fresca fresca la cosa... Ti penti del matrimonio... Sei contento... Non gli hai cambiato nulla... È stato il giorno più bello della mia vita... A parte un neo... Un neo poi vecchio grosso... Infetto però... È stato bellissimo... Ed è bellissimo... Svegliarmi... Addormentarmi... Accanto a lei... Penso sia la cosa più... Ritornare... Di notte... Dopo la live... Trovarla lì... Che ti aspetta... È bello... E poi svegliassi... Che mi sveglia a pranzo... No... E ti dici... Amore... È pronta... È la cosa più bella del mondo... Cazzo... No... Lo raccomando a tutti... Se potete... E amate veramente... Vi amate... E fatelo... Perché è una cosa... Stupenda... Come mai vai letto alle 6 la mattina? Dè... Perché... Sono un nottambulo... Inguaribile... Come la... Come il cos... L'insegnante di biliardo di Fantozzi... Era un nottambulo inguaribile... E sono così... Guardo... Internet... Spizzo... Interviste... Mi piace molto... Comunque stai in studio la notte... No... 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 Sto in studio un'altra ora dopo la live... E poi vado a casa... Ah... Perché non è a casa? Ah... Perché non è in casa lo studio... No... Ah... Io ero convinto... No... No... Io ho comprato uno studio... Da un'altra parte... No... No... Ho separato... Che pieno che è... Sì... C'è uno studio... A Ponte d'Era... Un cento metri quadri... E sto lì... Tranquillo... Era un rudere di una vecchietta... Come mai hai voluto... Hai voluto dividere casa... Lavoro essenzialmente... Eh... Perché rompevo il cazzo Agnese... Poverina... Che lei lavora come una matta... Cioè... Non posso romper cazzo con le mie urla... Grida... Le cazzate... No... Era... Chiaro... Chiaro... No... Sono due cose che vanno separate... E anche lei... Parecchio un gamba... C'ha da lavorare... Sta anche lei davanti al computer tutto il giorno... Ma io non disturbarla... Ho capito... Lei non mi ha detto mai niente... Però l'ho voluto fare io... Perché insomma... Non era carino... Per rispetto... Per rispetto... Va bene... Perfetto... Io direi che... Ci siamo... Grazie mille Dario... Davvero per... Grazie... Abbiamo fatto... Seconda ending... Secondo ending... Puoi firmare se vuoi... Ne fai un'altra... Un'altra firma... Un'altra firma... Davvero... Dai... Grazie... Grazie davvero... Io... Non so se hai altre domande... No... A posto così... Grazie mille ancora Dario Moccia... E noi... Ovviamente... Come sempre... Ci vediamo... Alla prossima puntata... Ciao... 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 No... No... È un piccolo stop per sicurezza... No... Se lascia di guerra... Si è venuto... No... 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 Si sta morendo da me... No... 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 Si... Vatti immagino che il casino ne ho... Mi guarda... Non è più divertente che si è fatta... Si... Libere... Libere... Bravo... Libere... Che cosa ha fatto? Hai caro? No... Ma tu sei lo fatti in memoria in questa roba addosca? Adesso mi vuoi... Hai che se tu... Non mi vuoi fare... Non mi vuoi fare... Non mi vuoi fare... Vediamo a noi quanto fa tu... Forza... Vado nelle cerchie... Vado nelle cerchie... Vado... 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 Vado...